Il golpe di Stato in Cile del 1973 è stato un evento cruciale nella storia contemporanea del Sud America. Il 11 settembre 1973, le forze armate cilene, guidate dal generale Augusto Pinochet, hanno rovesciato il governo democraticamente eletto del presidente Salvador Allende. Questo colpo di Stato ha segnato l'inizio di una delle dittature più repressive e durature del continente, che si è protratta fino al 19.901. Allende, il primo presidente marxista eletto in un paese democratico, aveva cercato di implementare una serie di riforme socialiste per ridistribuire la ricchezza e riformare la società cilena. Tuttavia, queste riforme incontrarono l'opposizione di settori conservatori all'interno del Cile, nonché l'ostilità degli Stati Uniti, che temevano la diffusione del comunismo nell'emisfero occidentale. Il colpe è stato caratterizzato da un attacco, aereo contro il palazzo presidenziale, la moneda, e la morte di Allende. Sebbene ci siano ancora dibattiti sulla natura della sua morte, si ritiene generalmente che Allende si sia suicidato piuttosto che arrendersi ai golpisti. Le conseguenze del colpo di Stato sono state devastanti. Pinochet instaurò un regime militare che violò sistematicamente i diritti umani attraverso la tortura, l'omicidio e l'esilio di migliaia di oppositori politici. Si stima che quasi 30.000 persone siano state torturate e più di 2.200 siano state giustiziate durante la dittatura. Inoltre, quasi 1.500 persone sono scomparse e molte di esse non sono mai state ritrovate il regime di Pinochet. Ha anche avuto un impatto significativo sull'economia cilena, introducendo riforme di mercato neoliberiste che hanno trasformato il paese in uno dei più stabili e prosperi dell'America Latina. Sebbene a costo di una crescente disuguaglianza e instabilità sociale nonostante la fine della dittatura nel 1000 e 990 e il ritorno alla democrazia, il Cile continua a fare i conti con l'eredità del Golpe e del regime di Pinochet. Le divisioni create da quegli eventi persistono nella società cilena, e la ricerca di giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani continua ancora oggetto. In conclusione, il Golpe di Pinochet in Cile non è solo un capitolo buio nella storia del paese, ma anche un monito sulla fragilità delle democrazie e sull'importanza della vigilanza contro le forze che cercano di sovvertire i principi democratici e i diritti umani. La reazione internazionale al Golpe di Pinochet è stata mista e ha riflettuto le tensioni della guerra fredda. Alcuni paesi, in particolare quelli allineati con gli Stati Uniti, hanno accolto favorevolmente il cambio di regime in Cile, vedendolo come un baluardo contro la diffusione del comunismo nell'emisfero occidentale. Tuttavia, vi è stata anche una forte condanna internazionale, soprattutto per le violazioni dei diritti umani che sono seguite al colpo di Stato. Organizzazioni internazionali come Amnesty International hanno denunciato le atrocità commesse dal regime di Pinochet, che includevano la scomparsa di più di 3.000 persone e la tortura di migliaia di altre durante i suoi 17 anni di potere. Inoltre, il colpo di Stato ha scatenato il più grande movimento migratorio nella storia del Cile, con oltre 200.000 persone che sono andate in esilio in Europa. Ci sono stati casi di solidarietà significativi. Ad esempio, i sindacati britannici hanno lavorato per bloccare il commercio con i nuovi poteri fascisti cilenti. La detenzione di Pinochet a Londra nel 1998 ha segnato un momento storico per la giustizia internazionale. Piché ha cambiato l'idea di giustizia universale e ha dimostrato che anche ex capi di Stato potevano essere, ritenuti responsabili per crimini contro l'umanità. In sintesi, mentre alcuni governi e gruppi politici hanno supportato o accettato il golpe, la comunità internazionale nel suo insieme ha espresso preoccupazione e condanna per le azioni del regime di Pinochet, soprattutto in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani. La memoria di queste reazioni rimane un elemento chiave nel dialogo sui diritti umani e sulla giustizia globale. Grazie.